benvenuti nel mondo a quadro l'azienda quadro è nata proprio per il ciclismo noi siamo fortissimi nel discorso proprio delle linee da ciclismo questa che vi presento adesso è la linea top di gamma che abbiamo oggi appena realizzato ed è praticamente la linea foglia che ci distingue dagli altri per la leggerezza la possibilità di essere personalizzata nessun tipo di tagli o di silicone nelle maniche perché comunque si chiama taglio vivo taglio vivo laser esatto hai le tasche praticamente dietro anche queste rivoluzionari con un materiale molto molto membrano in maniera che si mette dentro qualunque cosa con la lì che la prende dentro non si muove mentre va in bicicletta per le vibrazioni importantissimo non ti salta fuori niente abbiamo una tasca taschino laterale dove tu ci puoi mettere le tue cose il telefono è enormi no ma il telefono normale c'è il telefono magari il telefono mettere la tasca dietro esatto e poi si può mettere le chiave praticamente hai tutte le nostre cerniere sono cam lock tac qui c'è il garagino si chiama garage perché posteggi la cerniera sì e questo qui è cam lock quindi io chiudo rimane bloccata apro con un dito mentre sono in bicicletta non ho bisogno di staccare le mani da mani favolosa ed è una cosa importante la salopette della linea foglia al taglio laser ok quindi è tutta tagliata laser c'è la possibilità di personalizzare le bratelle nella parte anteriore il pantalone anche questo ha tutto un taglio laser come il discorso della ma pantalone da tre che vi facevo vedere nasce proprio dal ciclismo questo è testato da noi da ormai tantissimi anni ed è un prodotto che quando ce l'hai addosso non ti non lo senti più all'inizio lo metti bene quando l'ha indossato è perfetto non si muove dalla posizione tutti i tagli sono fatti ergonomici vedi sembra che già uno in bicicletta perché perché vengono studiati dal nostro staff e dalla maestra di cucitura e facciamo tutte queste linee un po già sagomate per essere già comodi qui sì perché nella posizione bicicletta è questa qui e quindi il pantalone già prende la posizione del ciclista vi farei vedere una novità assoluta perché poche aziende forse pochissime fanno è il pantalone da freerider personalizzati noi siamo in grado di poterle realizzare anche uno solo un pantalone con dei tessuti dei materiali innovativi made in italy sempre personalizzabile tutto quindi tutto cento per cento customizer la sua bella taschettina con il suo filetto i suoi regolatori laterali cerniera due bottoni due bottom down parte posteriore con il doppio tessuto nella parte interna dove appoggia la sella e già se tu la guardi vedi come già posizione la bicicletta c'è la possibilità di poterne fare anche solo uno si può abbinare con o la maglia da freerider col tessuto i fili di carbonio tessuto i fili di carbonio e per un questione antibatterica antibatterica fungostatica antimicotica elettrostatica effetti di queste due rigatine qui sono fili di carbonio e poi la leggerezza comunque è un filo molto più leggero poi c'è la classica a2dh che è la maglia una macchina downhear downhear bravo e poi c'è la nuovissima tu free che è la nuova maglia con la pezza che pulisce il l'occhiale bellissima la pezza per cui per pulirti l'occhiale l'ente dei l'occhiali incorporata con la maglia questa è una genialità è la prima volta che poi la parte posteriore laterale c'è sempre la taschettina questa è una maglia nuova dove si può addirittura customizzare il parasudore e questa quindi abbiamo delle magliette sempre per quanto riguarda il mountain bike in questo caso tessuti diversi concezioni diverse anche nel taglio della manica nel taglio della vestibilità sì perché tutte le discipline qualunque essa sia ormai si sono esasperate dal triato dove facciamo i body e tutto da il ciclismo dal dh doni freerider dalla possibilità di personalizzare anche gli accessori altra cosa che a quadro è riuscita nel breve tempo a far sì che i numeri vedi calze personalizzate stampate 100 per cento i numeri anche di 10 20 pezzi noi riusciamo a realizzarli allora abbiamo visto magliette pantaloncine maglie da ciclismo pantaloni da ciclismo downhill ma abbiamo gli accessori a quadro completamente personalizzabili quindi abbiamo parlato dei calzini da ciclismo stampati 100 per cento questi questi qui sono sempre calzini fatti con la macchina classica anche qui i minimi sono bassi 10 20 pezzi grafica a quadro quindi potete vedere la qualità dei tessuti questo è anche addirittura compressivo quindi ti da una leggera vasodilatazione mentre nell'utilizzo della della corsa a piedi o della della bicicletta tutti i prodotti sono personalizzabili il cappellino nuovo che abbiamo fatto e ci abbiamo messo tre anni per farlo perché sembra una stupidata mai fare il capellino veramente però questo è traspirante al massimo sì sì questo leggerissimo c'è pesa pochissimo la visiera è bella rigida come si usa usarlo benissimo anche per fare la corsa a piedi a chi piace c'è chi lo fa sì però mai adesso c'è questa moda sì sì bello molto traspirante bello leggero e via diciamo che possiamo fare tutto gli accessori non le facciamo tantissimi guanti gambari manicotti wind tube sacchetti personalizzati tlt calze insomma tutto quello che è il discorso degli accessori da noi trovate la possibilità di realizzarle come li volete voi alberto ma mi spieghi cos'è l'exclusive allora praticamente il ci sono parecchie aziende che producono fondelli noi abbiamo fatto una collaborazione con un'azienda che si chiama dolomiti che è un'azienda veneta a condizione familiare che scorta in tutto il mondo e dalla loro idea la nostra idea è nato praticamente l'excusi questo fondello superiore una microfibra tipo il concetto dei pannoni dei bambini quindi è traspirante e anti sgraffi come si può dire non prende mai dentro quindi nell'utilizzo bici non ha nessun tipo di possibilità di andare a abrasare avere abrasioni rossori queste cose qui sono eliminate completamente perché tutto ha un pezzo unico nella parte posteriore c'è un poliuretano espanso questo qui che vedete verde che viene registrato in tutto il mondo perché è idrorepellente ok e poi viene fresato in 3d questa operazione viene fresata in 3d per avere un fondello che in qualunque tipo di situazione di qualunque tipo di sella appoggia uguale appoggia uguale non ha mai la probabilità di avere spostamenti dall'assetto che tu vuoi in più sudando il sudore più pesante passa sotto questa schiuma è idrorepellente viene buttato fuori sudore col passaggio dell'aria si è sempre asciutto quindi è l'acquazione del sudore questa azienda e noi l'abbiamo testato con tantissimi altri nostri clienti praticamente lo garantisce dalle sei ore in su quindi un fondello di altissimo range in più è veramente una novità perché comunque nell'appoggio tu hai la possibilità di stare in bici tante ore senza avere mai problemi a quadro personalizzazione e customizzazione dei prodotti in base alle esigenze dei ciclisti dei runner dei tre runner a 360 gradi quindi ti cuciono il vestito addosso se siete interessati contattate tranquillamente a quadro nei link sotto condividiamo tutto vi metto tutti i link quindi lo store online veniamo da voi uso il veniamo perché io seguo per quanto recupero per alberto seguo la val d'aosta ciao ciao ci vediamo ciao 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 prima ciao 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 ciao